Il 16 dicembre è confermato, parte la macchina organizzativa. Ce la fate in due settimane? Ma noi siamo quelli dei miracoli. Hanno vinto gli XN? No, ha vinto la linea di chi voleva fare le primarie, quindi del popolo della libertà. C'è stata una trattativa? No, nessuna trattativa, si è semplicemente fatto un ragionamento intorno all'indizione delle elezioni politiche e le elezioni regionali, e quindi come organizzare la campagna elettorale. Le primarie saranno un grande momento per confrontarsi sui temi, per confrontarsi sull'agenda di governo e saranno il lancio della campagna elettorale per elezioni politiche.